Allora Lorenzo Frosinoni infila l'ottavo risultato utile consecutivo e volentessa la classifica questa sera a Novara un'altra grande prova da parte vostra. Sì, abbiamo fatto una grande partita e sono molto contento che siano arrivati i tre punti. Abbiamo dato un'ulteriore prova del nostro carattere e con questo spirito ci toglieremo grandi soddisfazioni. Una vittoria è arrivata grazie ad un tuo gol, il primo in Serie B, immagino tanta gioia ma hai una dedica particolare per questa tua rete. Beh sì, la dedico alla mia ragazza, a Lodovica che è la mia famiglia, che nei momenti difficili mi sono sempre stati vicino perché sono stati molti momenti difficili in questi anni e sono sempre stata al mio fianco. Oggi avete dato l'ennesima dimostrazione che questo gruppo sta crescendo ancora di più, avete dato un grande segnale di compattezza. Anche nel momento in cui il Novara ha pareggiato, forse nel miglior momento, siamo tornati di nuovo avanti, sintomo che questa squadra ha tanta voglia di fare. Sì, sì, abbiamo carattere, questo si nota, dalla partita con il Perugia abbiamo cambiato proprio l'approccio alla partita, è scattato qualcosa che doveva scattare per arrivare a questo punto, cioè a giocarci il campionato, a giocarci la vittoria del campionato. Questa sera la Frosinona ha segnalato un record, otto risultati utili consecutivi, l'abbiamo eguagliato domenica scorsa, ha battuto oggi con un tuo goal, questo immagino ti dà ancora più soddisfazione. Sicuramente una soddisfazione, ma sono ancora più felice che siamo riusciti a vincere, a portare i tre punti a casa e a raggiungere il Verona. Grazie.